sono gabry costa ragazzi in questo gioco pacman world repack vi porgo il mio benvenuto sull'isola fantasma guardate tutti insieme questa scena guardate quanti fantasmi ci sono avete visto ma poi l'improvviso arriva fortman il malvagio robot dalle sembianze di pacman i fantasmi stanno dicendo a talkman che pacman è qui sull'isola fantasma allora vi sta piacendo questo filmato questa scena talkman arrabbiato perché i fantasmi non hanno catturato pacman hanno catturato solo la famiglia ricordatevi che la famiglia dobbiamo salvarla gli amici di pacman sono in pericolo mettiamoci al lavoro vi saluto mettete un mi piace grazie